Siamo alla ventitresima, per noi, mi credo, è sempre difficile andare avanti, perché abbiamo 22 gruppi quest'anno e quindi ringraziamo il Dio per questo, però i giovani sono un po' restii e gli anziani sono un po' vecchi, però abbiamo ridotto il presepe, anche i partecipanti, ne saranno circa 300, di partecipanti e diciamo così che noi la nostra soddisfazione è quella innanzitutto, perché ci teniamo in quanto è un ricordo religioso, rappresentiamo qualcosa che rammenda al popolo quello che era la natività, ma ci teniamo anche perché sono ormai 23 anni che l'Associazione di Atenostra fa questa manifestazione e vorremmo portarla avanti ancora per altri 23 anni. Il futuro non si può ipotecare, però speriamo che l'amministrazione comunale, i gruppi, la città, anche la città, venga a partecipare con noi. Abbiamo dei gruppi anche extra cittadini che hanno il presepe di teatro nostro, il presepe vivente, è stato il primo in Italia. Adesso non mi fate dire che non voglio essere io, però ai tempi in cui era il presepe itinerante di chiedere il primo in Italia. Adesso l'hanno copiato un po' tutti, qualcuno ha più possibilità di noi e quindi può darsi sì anche più bello, noi andiamo avanti con le nostre possibilità. Però gli amici e associazioni dei paesi qui intorno ci tengono a venire a partecipare e questo è buono. Grazie. Grazie. Grazie.